E bentornati alla Massa Caffè. Non ho fatto in tempo nel podcast precedente a riprendere il caffè che ho dedicato al liceo di Partenico, Sicilia, intitolato il caffè liceo impastato perché cosa era successo? Che la stragrande maggioranza degli studenti di quel liceo si era opposta con un documento pubblico alla decisione di intestare il liceo a Peppino Impastato, martire della lotta alla mafia. Mi aveva colpito una delle motivazioni adotte da questi ragazzi e cioè il fatto che Impastato fosse certo una vittima della mafia ma una vittima divisiva perché appunto era schierato politicamente, era comunista. Che appunto nel pezzo riflettevo sul fatto che ora anche Borsellino è divisivo perché era vicino al movimento sociale, cioè a me sembra che fossero molto di più le cose che le accumunavano, l'unico valore divisivo è quello della mafia che infatti li ha uccisi entrambi. Ma detto questo mi colpiva che degli adolescenti non fossero così attratti come invece di solito dovrebbe capitare a quell'età dalle grandi passioni e che anzi vedessero nella presenza di una passione ideologica un valore negativo. Tra l'altro la storia di Impastato, ma ricordo che non la conosce o non ha visto il film di Cento Passi, è una storia che sembra fatta apposta per entusiasmare gli adolescenti perché parla di una grande ribellione, c'è un ragazzo figlio di un mafioso che si ribella al padre. L'Ammazza Caffè, il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini Questa settimana invece abbiamo avuto storie di segno opposto arrivare dal mondo della scuola, cioè di nuovo invece storie in cui ci sono delle minoranze che si impegnano molto politicamente. Ora, non so cosa ne pensiate voi, faccio riferimento innanzitutto alla vicenda di Torino, che forse conoscerete della decisione del Senato accademico, sotto anche la pressione dei collettivi studenteschi, di non aderire a un accordo di scambio culturale con le università israeliane. Allora, io penso che un adolescente abbia il diritto di essere adolescente e quella è un'età in cui si tende tutti a essere abbastanza estremisti nel modo di pensare e di vivere. Pensate anche in amore, no? Romeo e Giulietta non a caso erano adolescenti, cioè quando hai 15, 16, 20 anni pensi davvero che tutto ciò che ti capita sia assoluto, irripetibile, mai successo prima a nessuno. E pensi che la vita sia tutto sommato una cosa abbastanza facile, il bene da una parte e il male dall'altra, tutto è molto chiaro. Poi con gli anni cominci a renderti conto che le cose sono più articolate, ma se te lo dicono a 20 anni ti innervosisce, ti dice ecco questi sono ragionamenti da vecchi, poi li faranno anche loro qualche anno dopo. Ma a 20 anni hanno il diritto di essere un po' estremisti, un po' anche fanatici, con il limite naturalmente ci mancherebbe della violenza, non solo della violenza fisica, ovvio, ma anche di certi estremismi di sopraffazione verbale. E alludo naturalmente alle vicende come quella di Napoli che coinvolgeva il direttore di Repubblica Molinari, cioè i casi in cui si impedisce a qualcuno di parlare. Io posso non avere nulla in comune con te, ma sono curioso di starti ad ascoltare, per poi criticarti, per poi contestarti, ma io trovo che questo sia un valore fondamentale per tutti, ascoltare gli altri. Io la mattina quando apro i giornali, i primi articoli che vado a leggere sono quelli delle persone che so che non la pensano come me. Mi incuriosisce vedere il loro modo di guardare le stesse cose che guardo io e vedere il loro punto di vista. Leggere chi già la pensa come me, come diceva Oscar Wilde, i pettigoletti sul mio conto non mi interessano perché non hanno il fascino della novità. Ecco, diciamo che allo stesso modo chi ha le mie stesse idee, lo leggo magari, però non è che mi riconferme qualcosa che so già. Mi interessa di più mettermi in discussione leggendo o ascoltando le opinioni di chi non la pensa come me. Però ripeto, anche in questo ci sta che nell'adolescenza ci sia un certo estremismo. Tra l'altro invece è molto più grave quando questo estremismo lo vediamo in persone adulte. E parlo di quei professori universitari di Torino che a stragrande maggioranza, con un solo no della professoressa Terracini, hanno deciso di interrompere questo rapporto con l'università israeliana. E' un fenomeno di disumanizzazione. Pensateci, insomma, gli ascoltatori di questo podcast lo sanno. Io qui non ho mai taciuto il fatto che fin dall'inizio sono stato più vicino alle ragioni degli ucraini rispetto a quelle di Putin. Detto questo, ho sempre trovato folle chiunque se la prendesse non con Putin ma con i russi. Ricorderete quel caso famoso del corso su Dostoevsky bloccato da una cosa ridicola e grottesca. Cioè, boicottare Dostoevsky sembra proprio la scemata. Allo stesso modo, in questo caso, tu puoi avere tutte le ragioni, e le hai, di criticare il governo Netanyahu. E qui, penso, la pensiamo tutti abbastanza allo stesso modo, credo, sul Netanyahu. Ma una cosa è Netanyahu, una cosa sono gli israeliani. Netanyahu è uno, il governo Netanyahu è un governo. Non è che possiamo immaginare che tutti gli israeliani debbano rientrare in un'unica categoria. Io credo che tra quei professori universitari, tra quegli studenti israeliani, che verranno danneggiati da questa decisione di boicottaggio, ce ne siano tantissimi che non condividono la politica di Netanyahu. E che quindi oggi noi puniamo di cosa? Del fatto di essere israeliani? Cioè di essere connazionali di Netanyahu? Esattamente come boicottare o penalizzare un russo perché è connazionale di Putin. A me sembra una cosa, non so, folle. Ecco, non riesco neanche a dirlo diversamente perché la storia del passato ci insegna che tutte le volte che abbiamo smesso di trattare di esseri umani come individui, con un nome e un cognome, ma li abbiamo trasformati in entità collettive, anonime, abbiamo commesso, diciamo, dei crimini efferati. Quindi io sono rimasto veramente avvilito dal comportamento di questi professori universitari. Avvilito è la parola più gentile che mi viene da dire. Cominciamo con la lettura dedicata a un caffè che parla di scuola. Parla di un liceo, di una scuola milanese, forse non è un liceo, forse è una scuola primaria. Comunque non importa, il titolo è Buon Ramadan. Per la prima volta una scuola italiana resterà chiusa nell'ultimo giorno di Ramadan. A chi della notizia legge solamente il titolo sembrerà un atto di sottomissione culturale, un cedimento inaccettabile, come l'ha infatti subito definito Matteo Salvini in un tweet. Perdendoci invece una manciata di secondi, obiettivamente tanti, per una persona molto indaffarata, si scopre che in quell'istituto di Pioltello, nel milanese, intitolato tra l'altro a un giovane pakistano martire del lavoro minorile, quasi la metà degli studenti proviene da famiglie di tradizione islamica e già l'anno scorso ha onorato la ricorrenza, restandosene a casa. Il preside quindi non si è sottomesso, si è limitato a prendere atto della realtà. Una scuola dove il numero di chi osserva i costumi islamici è praticamente identico a quello di chi segue quelli locali, è chiamata a rispettare tutte e due le culture. L'importante è che il giorno perso venga recuperato e in tal senso il preside ha dato delle rassicurazioni. Stavolta quindi l'equazione più Ramadan meno Natale è fuori luogo, benché sia purtroppo assai diffusa tra coloro che hanno un'idea autopunitiva del concetto di inclusione. Insomma, la pavidità non consiste nel riconoscere il Ramadan, ma nel vergognarsi del Natale, così come di tanti altri simboli della nostra tradizione. Carlo Fruttero, maestro di scrittura, diceva sempre Se sei incerto tra due aggettivi, togli gli entrambi, quanto aveva ragione. Invece per i diritti va della regola opposta. Aggiungerne uno non ha mai tolto niente a nessuno. Questo vale per i diritti civili, vale per quello di cui stiamo parlando. Infatti mi ha molto colpito la reazione di alcuni rappresentanti, in particolare del centro-destra, che hanno detto, ah ma allora in questo modo vogliamo festeggiare anche la festa degli hindù. Ma no, perché non mi pare che in Italia ci sia una scuola in cui gli hindù sono la maggioranza assoluta degli studenti. Altrimenti se così fosse, in quella scuola sarebbe giusto. Cioè bisogna adeguarsi pragmaticamente alla realtà. Come dice Marco Gaudenzi, il preside ha fatto bene. Pino Caruso dice, se l'itero è stato rispettato, il ministro non può solitamente interferire. Come sapete, poi il ministero è intervenuto per dire che questa cosa non si può fare. Quindi ha trasformato in un caso politico quella che era una cosa di buonsenso, che era stata decisa dalle autorità interne della scuola e che era stato accettato da tutti senza creare particolari problemi. Però Anna Maria Moglia invece è una delle lettrici che dà voce invece alle critiche e dice, io non sono affatto d'accordo col suo caffè. Se dovessimo rispettare le ricorrenze di tutti i popoli, non si andrebbe più a scuola. Cosa che farrebbe piacere magari a molti studenti, tanto però ha sempre la ricerca di occasioni buone. Insomma, almeno io mi ricordo che ero così. In questo caso però, signora Moglia, abbia pazienza. Appunto, dicevamo prima, non possiamo fare un discorso astratto, teorico, bisogna fare un discorso concreto. E cioè, in quella scuola il 50% appartiene a famiglie che praticano il Ramadan. E quindi non si può far finta dell'esistenza di questa cosa. Dice un'altra persona che la pensa come lei, siccome la scuola pubblica è laica, niente chiusura, altrimenti dovrebbe chiudere tutte le volte anche dove ci sono alunni di altre religioni. Però, ecco, Aura Mazzacurati risponde, no, le vacanze di Natale non hanno lo scopo di aderire alla religione cattolica, ma di permettere a chi vuole di festeggiare il Natale. E la stessa cosa deve valere per il Ramadan quando in una scuola hai una maggioranza di studenti islamici. Poi qualche altro lettore riflette sulla premessa, dice, ma non la colpisce, dice un lettore, il fatto che in quella scuola il metà degli alunni sia islamico? E qui però si apre tutto un altro tema che riguarda anche i temi della natalità e di tanti altri discorsi. Però quel preside ha preso la decisione giusta. Qualunque altra decisione è una decisione ideologica. Quella del preside è una decisione di buon senso e, ripeto, tutt'altro che di sottomissione culturale. Il problema, infatti, non è mai quello di riconoscere una festa come il Ramadan, è quello di vergognarsi delle nostre. Io ho sempre criticato chi dice non mettiamo più il Natale, chiamiamolo la festa dell'inverno, per non urtare la sensibilità di chi non è cattolico. Ecco, questo mi sembra una totale sciocchezza. Io penso che il Natale vada festeggiato e che in una scuola dove la maggioranza è islamica si festeggia anche un giorno di Ramadan. Non ci vedo niente di sconvolgente né di sottomissione culturale. Interrompiamo qui i termini della scuola. Mi darrebbe voglia ancora di raccontarvi un po' in breve il caffè che ho scritto su Giorgia Meloni e Angelo Bonelli. Anche se vi devo dire una cosa, ci ho fatto due caffè questa settimana dove, partendo da personaggi politici, tratteggiavo così, tentavo di tratteggiare un ritratto di noi, come italiani, dei nostri difetti, il vittimismo, per esempio, o appunto questo fatto che in Italia gli elettori di destra, ve lo riassumo così, il caffè su Meloni e Bonelli, sapete a cosa mi riferisco, allo scambio in Parlamento quando Bonelli, mentre parlava della Palestina, si è trovato a intercettare lo sguardo di Giorgia Meloni, con le pupille sempre sbarrate con cui lei ti guarda quando non è d'accordo con te e gli ha detto per favore mi tolga quello sguardo inquietante davanti agli occhi e la Meloni, in modo ironico, prima ha fatto le sue solite mosse e faccette e poi si è nascosta dentro la giacca. Non dimentichiamoci che la Meloni viene da una famiglia di personaggi dello spettacolo, la nonna, mi sembra un'attrice che insegnava addirittura appunto arte drammatica, quindi ce l'ha nel sangue un po' questa capacità di recitare. Però io nel caffè dicevo ecco, in Italia lo stesso fatto viene visto all'opposto da un elettore di destra e di sinistra, cioè quello che per un elettore di destra è simpatia nella Meloni, per un elettore di sinistra è invece volgarità, beceraggine, cafonaggine. Al contrario, ciò che per un elettore di sinistra in Bonelli e vedendo Bonelli è senso delle istituzioni, in serietà per un elettore di destra è antipatia, rigidità, noiosità, pesantezza. E purtroppo la terza via si fa fatica a trovarla, ma se anche ci fosse un partito che coniuga la sobrietà con la disinvoltura, la leggerezza, la capacità di sorridere, ebbene questo partito non verrebbe votato perché in effetti gli italiani non l'hanno mai votato. Siamo sinceri, non ci siamo mai riconosciuti in una terza possibilità diversa da queste due. Però su questo punto non ho letto un solo commento dei lettori, se non quello e lo riporto di uno che vorrei proprio dire che Leonardo Ricci dice la terza via intesa come area politica invece della commedia come quella di destra o della tragedia che invece è il modo di vivere di quella di sinistra appare più una farsa. Mi sembra una sintesi anche ironica con cui possiamo chiudere questo nostro Ammazza Caffè. Ci sentiamo a sabato prossimo. Questo era l'Ammazza Caffè il sabato di giorno per giorno con Massimo Gramellini. Giorno per giorno è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone coordinamento di Tommaso Pellizzari produzione di Carlo Annese con Manuel Iannuzzo.